Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per l'appuntamento quotidiano con la carta stampata con i giornali Occhio ai giornali 7.30 appuntualmente tutte le mattine qui da Fano TV per sfogliare insieme a voi le notizie principali, i titoli dei quotidiani, il resto del Carlino, Corriere Adriatico che naturalmente poi troverete in edicola. Naturalmente facciamo tutto questo non prima di aver visto Santo del Giorno e mostrarvi le previsioni del tempo, guardiamoli insieme a voi, partiamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa osserva la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, è sabato 5 agosto e il sole è sorto alle 6.01 e tramonterà alle 20.27. Previsioni del tempo, previsioni del tempo come ormai da quasi tutta la settimana rapidissime e velocissime perché sono molto scarne, vedete qui è sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, venti di brezza, stazionari le temperature e mare quasi calmo, stessa cosa anche per domani anche se si presentano qualche velatura di primo mattino, però insomma poi nel pomeriggio tutto dovrebbe rientrare nella normalità, però le nuvole sono più intense sui rilievi come vedete anche nella cartina, non si escludono precipitazioni brevi però più che altro nelle zone montane, quindi sulla costa non dovrebbe succedere nulla, nessuna variazione per quanto riguarda temperature venti e mare e anche lunedì vedete veramente il tempo permane bello, caldo e soleggiato, poco o parzialmente nuvoloso, nessuna precipitazione e temperature in diminuzione, speriamo di qualche grado nel termometro per alleviare un po' la sofferenza di questi giorni, però insomma anche come tendenza per i giorni successivi è stabile fino a metà settimana e anche le temperature sono stazionarie che vedete quelle per oggi, insomma sono anche queste in linea con tutte quelle che abbiamo avuto questa settimana, superiore ai 30 gradi nella maggior parte della regione, compresa anche la nostra zona, vedete siamo a 35 gradi, insomma se aggiungiamo anche l'umidità a tutto ciò il percepito arriva sicuramente poco prima dei 40 gradi. Temperature alte non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per le fiamme, la notizia del giorno è come molti di voi sapranno che magari hanno visto post su Facebook che il Monte San Bartolo a Pesaro sta bruciando, sta ardendo dalla tarda serata di ieri e la situazione è stata definita in un post su Facebook dal sindaco Matteo Ricci preoccupante, per stamattina dovrebbero arrivare canadere ed elicotteri dei Vigili del Fuoco per cercare di arginare la cosa. Vediamo la pagina del resto del Carlino di apertura, ve la faccio vedere, ecco qui vedete abbastanza eloquente, fiamme altissime tra Fiorenzuola e Castel di Mezzo, evacuate abitazioni, distrutti il cimitero e il tetto del mondo. Inferno sul San Bartolo, questo è il titolo quanto mai eloquente del resto del Carlino e poi a pagina 5 altre foto. In basso c'è la cronaca, travolge un ciclista e fugge ma riappare il giorno dopo, è grave un ventisettenne e poi il dramma dell'uomo assalito dal pitbull parla dal suo letto di ospedale, dello spavento che ha passato. Allora vediamo la pagina 5 del resto del Carlino che mostra le immagini eloquenti di quanto è avvenuto nella tarda serata di ieri e di quanto sta avvenendo anche tuttora. Vedete Vigili del Fuoco in azione, evacuati ristoranti, campeggi, case, la forestale è a caccia dei piromani e quindi si ipotizza. C'è sicuramente la mano dell'uomo dietro tutto questo, fiamme anche al cimitero Pullman per portare via i turisti. Incendio furioso partito ieri tra le 18 e le 20 approssimativamente in un campo di grano, ma forse quel grano ha dato fuoco qualcuno. Le indagini dei carabinieri forestali sono in corso, distrutti quasi 10 ettari di sterpaglie, bosco e macchia, ieri tra Fiorenzuola e Castel di Mezzo. Vigili del Fuoco, carabinieri e pompieri in azione per evacuare le persone. Altre pagine che riguardano il resto del Carlino, si parla di altre vicende e di un mal di pancia del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Perché il mal di pancia? Guardiamo, il mal di pancia per una tribuna, perché è stata bocciata la nuova tribuna allo stadio, non si aspetta certe critiche dopo i tanti investimenti al Benelli, quindi non si aspettava questo atteggiamento il sindaco di Pesaro. E poi in intervista l'assessore Belloni spiega le scelte del Comune, non si può fare diversamente e quindi questo è, insomma, i tifosi della Vis in questi giorni esternano tutto il loro malcontento verso l'installazione di una nuova tribuna, ma appunto dice lui non facciamo i dispetti, ci sono ragioni tecniche, qui la struttura di 60 metri rispetto agli 80 attuali. Quindi la società tenta di mediare, l'impianto sarà sistemato e pronto per il campionato, guardiamo però i lati positivi. questo è, ed eccolo, ed eccolo, insomma, nella sua testimonianza il malcapitato azzannato dal pitbull, parla dal suo letto di ospedale, dice il cane mordeva e non si staccava, gridavo aiuto, ma nessuno arrivava, parla dal letto Federico Gennari, il braccio forse si salverà, vedete la scena, il lago di sangue nel quale veramente ha versato per diversi minuti cosa devono fare i medici, dicono Gennari dovrà essere rioperato e operato ancora più volte, l'arto è stato ricostruito solo dopo aver tolto le necrosi. Inutile fuga, lo ha trascinato per le scale, 40 chili appesi al braccio, a un certo punto sono caduto, scenario naturalmente da film horror, tutta la sua testimonianza la potrete trovare appunto nelle pagine del resto del Carlino. E poi il feieton della storia infinita del cantiere in via San Francesco, il comune conquista il cantiere conteso alla ditta spada, dice comportamento illegittimo, chiama la polizia ma poi si arrende, quindi consegnato anche il materiale, dicono possiamo riprendere a breve con un'altra ditta, questo lo assicura l'assessore, vedete qui i momenti dell'entrata in possesso e momenti anche di tensione in via San Francesco, sembra veramente una storia senza fine questa. Andiamo nelle pagine di Fano, del resto del Carlino, si parla naturalmente della festa del mare, importantissima per Fano perché è una festa molto sentita non solo dalla marineria ma da tutta la città. Le novità ci sono, riguardano i fuochi d'artificio che per una disposizione del Ministero dell'Interno non si potranno effettuare sull'acqua in tutta Italia, non soltanto qui da noi a Fano perché poi per la bonifica dell'aria interessata ci vogliono addirittura i sommozzatori artificieri, cose impensabili dai costi elevatissimi e quindi si rinuncia ai fuochi sull'acqua ma quelli in aria saranno altrettanto spettacolari, non preoccupatevi, non ci sono naturalmente le risorse per la bonifica. Il dirigente Giampaolo dice appunto sommozzatori artificieri hanno costi proibitivi. Domani la cinquantottesima edizione al Porto Vecchio con la consegna naturalmente della corona in mare in omaggio in memoria ai caduti. E poi in basso i piccoli terremotati vanno a casa con la maglia dell'alma perché sono arrivati qui dalle zone terremotate per iniziativa del Panathon Club di Fano con i centri estivi sportivi del Jump. Hanno passato qualche periodo di serenità e di tranquillità qui da noi. Però nelle pagine del resto del Carlino si parla anche di politica e degli strascichi che l'incontro con le due giunte che c'è stato in comune e poi il documento congiunto che ne è scaturito ha alimentato la polemica in ambito politico. Si sono scatenate quasi tutte le opposizioni. E allora i 5 Stelle dicono teatrino di mezza estate. Fano è stata incamerata da Pesaro. incontro tra le giunte. La parte della maggioranza è anche critica. Vedete qui nella vigneta di Giombetti, insomma, il balletto di mezza estate. Tutti quanti più o meno hanno espresso i loro pareri. Udc, Fratelli d'Italia, Possibile. Insomma c'è stato un coro abbastanza unanime e critico da parte dell'opposizione. L'unico positivo è Carnaroli del PD che dice è un bene che sia stato recuperato un metodo di confronto. Due città devono dialogare. E poi qui di spalla c'è un articolo che parla di una mostra d'arte contemporanea a Palazzo Bracci Pagani. Un artista conosciuto a Fano perché ha insegnato all'Istituto d'Arte è Edgardo Mannucci. Parte delle sue opere molto belle sono in mostra a Palazzo Bracci Pagani, un artista che ha lavorato la materia. Allora andiamo sempre a Urbino con il resto del Carlino per quel fatto di cronaca che vi ho lanciato dalla prima pagina del ciclista. Eccolo qua. Ciclista travolto da un alto, poi fugge via il pirata ma si costituisce il mattino dopo. Nicola Angeli, 27 anni e grave ad investirlo. È stato un 66enne. Cambiamo il quotidiano. Andiamo nella pagina, nel Corriere Adriatico e la fotolotizia. Eccola qua. Fuoco nel San Bartolo. minacciato un agriturismo pauroso incendio a Castel di Mezzo. E poi AFA record, blackout a raffica e malori, soccorsi anziani e anche bagnanti. Appello contro lo spreco d'acqua. E anche qui la notizia dell'investimento del ciclista. Vediamo la pagina che riguarda di San Bartolo. Eccola qui. San Bartolo brucia e fa paura. Il rogo è divampato a metà pomeriggio nei pressi di Castel di Mezzo. Vedete qui le foto. Quindi si parla di cause accidentali ma si è rapidamente steso minacciando anche un agriturismo. Ma un operaio riesce a scongiurare il propagarsi del fuoco. Un operario di questo agriturismo. Pompieri al lavoro fino a tardanotte. Saranno sicuramente impegnati anche nella giornata di oggi. Il caldo. Il lancio che c'era nella pagina di apertura. Blackout e macchie a macchia di leopardo e malori. Guardiamola qui. Anche qui, come sempre fa il Corriere Adriatico, una disanima di quanto avviene come temperature. Blackout a macchia di leopardo. Superstore costretto a chiudere. Interruzioni per un guasto. Enel, Alcelletta, Moraglia, Monte Granaro, Santa Veneranda. Sono impegnati i tecnici per risolvere questi blackout dovuti appunto al sovraccarico. La richiesta di energia elettrica dovuta ai condizionatori quasi tutti accesi per molte ore al giorno. Ma anche i pronti soccorsi sono in allerta perché colpi di calore sono frequentissimi. Anche il mare è a rischio naturalmente in aumento le chiamate al potes per le patologie legate all'AFA. Pesaro e insomma tutta la provincia. Ieri Lucifero ha imperversato già nel nome e quanto mai evocativo. Andiamo nelle pagine di Urbino dove anche qui non c'è pace sotto gli olivi perché Sgarbi una volta fa pace, una volta rilitiga e siamo di nuovo nella fase della litigata. Insomma venite ma dopo il Duca e Sgarbi riscatena la bagarra, l'invito del critico dopo aver fatto pace con i vertici dell'associazione che mette in pratica questa festa, pace fatta ma in realtà pace fatta non era perché con questo post sulla pagina Facebook del Comune riaccende la polemica e insomma questo è. Andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico. Gli artigiani però, vi abbiamo fatto vedere la pagina del Carlino dove mostrava tutta la rida di critiche che sono arrivate per questo accordo, però gli artigiani, il Corriere Adriatico dice, plaudono al patto storico, basta con divisioni di puro localismo. CNA e Confartigianato pongono l'accento su sinergie e fusione tra le due amministrazioni. Per il mondo produttivo l'accordo tra Pesaro e Fano su infrastrutture sanità e cultura è la chiave di volta per il futuro. Ma le minoranze, appunto anche qui nelle pagine del Corriere si citano le considerazioni di opposizione e minoranza, temono il ruolo dominante del capoluogo. Quindi insomma ricci e seri incassano il benestare delle associazioni di categoria dei commercianti. La pratica dello chalet non è una pratica chiusa, quindi commissione è convocata per lunedì per vedere insomma a due mesi dal sequestro non è ancora regolarizzata l'affluenza di tanti giovani, tavoli e punto birra sulla spiaggia. Insomma ci sono molte cose da mettere in ordine per quanto riguarda questo locale. Naturalmente si parla della festa del mare anche sulle pagine del Corriere Adriatico. C'è il programma nell'articolo con la festa appunto imperniata su gastronomie e cerimonie ufficiali e poi appunto i fuochi d'artificio. Nella Val Cesano le notizie riguardano la cronaca, rubano le sfere di cuoio del gioco storico del pallone col bracciale, l'artista Filippo Sorcinelli ne ricompra tre, l'associazione è tentata di lasciare Mondolfo. E poi le sagre e le feste estive a San Vito e Stacciola, gastronomia e musica, burschetta e cresce al via le sagre della tradizione. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Senigallia e anche qui c'è ampio spazio alla cronaca, piazza Simoncelli sgomberata, niente eventi per la sicurezza. La polizia è intervenuta dopo la colletta dei commercianti per rendere l'area più accogliente. Speriamo che l'anno prossimo la situazione possa essere diversa. Queste le considerazioni di Giorgio Terenzi, il portavoce dei commercianti. E qui un'immagine abbastanza eloquente sul stato di degrado, un campeggio sotto l'azienda di soggiorno, non è proprio il massimo della vita. E poi caos in via Fratelli Bandiera, parte l'esposto, i residenti esasperati chiedono l'intervento del sindaco Mangialardi. Vedete via Fratelli Bandiera al centro nel caso di Movida Molesta. Questa è una strada del centro di Senigallia, praticamente a ridosso del canale, a pochi passi dal foro Anonario. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Queste erano le notizie su Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Naturalmente la rassena stampa tornerà lunedì mattina alle 7.30. Quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana. Vi ricordo anche il nostro numero al quale potete mandare le vostre segnalazioni. Eccolo, vedete qui in sovrimpressione, 338-4968-250. Mandateci foto, segnalazioni e tutto quello che ritenete utile per le notizie della vostra città. Bene, grazie, buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci a lunedì. Grazie. 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 Grazie.